Ho cominciato a riflettere sul mio ruolo, cioè normalmente in questi anni il ruolo della donna era proprio di suonare uno strumento, ma comporre no. Questo era quasi impossibile. O almeno io non conoscevo nessuna donna che componeva, perché non avevamo le storie informazioni che abbiamo oggi. Ecco a l'opera della seconda di sound installazione commissione dal Viennale Musica e parte del Viennale Musica Collegio. Quindi ho usato l'idea di implementare l'idea in un'argomento spazio della città. Per ogni caratteristica c'è un computer dentro di un helio. Non ho un'argomento spazio della città. Per ogni caratteristica c'è uno, in un'argomento spazio della città. Quindi ho dueilità in un'argomento spazio della integrazione dell'ialitazione. Non ho ridurre di un'argomento spazio della città. Non ho ridurre di un'argomento spazio della città. maaa maaa tu la va? si stai? Nako Wana waka no yon 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 z y y y y Grazie.